Platea gremita di autorità per l'apertura dell'anno accademico all'Università degli Studi alla presenza del Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, il quale, dopo i saluti di rito del Sindaco di Campobasso e del Presidente della Regione, ha parlato della necessità di investire sui giovani e sull'innovazione per avere una classe dirigente dinamica e competitiva con il resto d'Europa. Ma sullo sfondo, troppo fresca la notizia dello scandalo, anche l'inchiesta sui concorsi truccati aperti dalla Procura della Repubblica a Firenze, un argomento sul quale si è soffermato anche il Rettore dell'Università di Campobasso, Gian Maria Palmieri. I primi a vigilare sulla correttezza delle condotte dei colleghi dobbiamo essere noi. In tutte le comunità pubbliche esistono persone capaci e oneste e persone meno capaci e meno oneste. Fa parte della fisiologia. L'Università non deve così impegnarsi in una sterile difesa corporativa, ma deve dire con chiarezza, a viso aperto, che è una struttura moralmente sana fondamentale per il futuro del Paese. Il Rettore ha naturalmente parlato nella sua relazione dei grandi passi in avanti compiuti negli anni da questa piccola realtà universitaria che è l'Ateneo del Molise. Questo inizio dell'anno accademico è suggerato alla presenza del Presidente della Corte Costituzionale a indicare la vicinanza delle più importanti istituzioni pubbliche di questo Paese a questo Ateneo che esprime qualità, che offre ai ragazzi di questo territorio delle aree limitrofe un'opportunità straordinaria di formazione. I nostri studenti sono circa 8.000, le immatricolazioni stanno andando benissimo anche quest'anno. Funziona sia la qualità della didattica e della ricerca dell'Ateneo, sia la misura relativa ai trasporti. Oggi i nostri studenti possono raggiungere tutte le sedi che sono distribuite sul territorio gratis attraverso le nostre navette o il servizio regionale di trasporto grazie all'accordo tra Università e Regione. Prima del Rettore Alessandro Setaro, in rappresentante degli studenti, si è soffermato sul diritto allo studio e sulle difficoltà di attuarne i principi. Per questo, ha detto Setaro, l'assegnazione dei fondi statali deve essere proporzionale ai fabbisogni finanziari regionali. Per il personale tecnico e amministrativo, Marilena Salvia ha sottolineato l'importanza della collaborazione all'interno dell'Università al termine della mattinata, dopo la prolusione di Valentino Petrucci, ordinario di Filosofia del Diritto, l'applauditissimo intervento del Presidente della Corte Costituzionale, che ha definito l'Università del Molise una piccola ma importante officina culturale.